Ciao a tutti, saranno circa tre anni che non carico un video sul mio canale e ho deciso di riprenderlo perché ne avevo veramente tanta voglia e ho visto che comunque c'è stato un bel riscontro anche da parte vostra, quindi sentivo proprio la necessità di ricominciare a fare i tutorial. Spero che questo look vi piaccia, è il primo di una lunga serie dopo una lunghissima pausa e se vi piace è ottimo anche per una serata visto che siamo anche al venerdì sera e niente, se vi piace questo look continuate a vedere il video. Ciao! Stendo il fondotinta Userò il buffing brush di Real Technique Quando fate questa operazione, col pennello intriso di quello che rimane del fondotinta lo passate anche agli occhi, anche un po' all'angolo interno, giusto per creare un po' di armonia di colore. Come antiocchiaie utilizzerò un correttore leggermente aranciato e lo mischierò ad uno del colore più o meno della mia pelle ma con mezza tonalità più chiara. Mi raccomando, la punta più arancione soprattutto all'angolo interno o comunque dove avete il colore di occhiaia diverso dal vostro colore di pelle è molto evidente. Vado a sfumare con una spugnetta tipo blending brush leggermente aranciata. Stessa cosa faccio per gli angoli un po' più scuri intorno alla bocca e al naso, vado a schiarirli un attimino e a sfumarli. Ok, ora che abbiamo provveduto alla correzione passiamo anche al resto del contouring. Le luci abbiamo già praticamente le parti chiare le abbiamo già impostate. Adesso con un prodotto in crema vado a sottolineare i zigomi, un po' le tempie, un po' diciamo tutto il contorno del viso, quindi anche alla fronte. Nel mio caso avendo una fronte abbastanza alta la oscuro abbastanza ed evito invece il mento perché non ho un viso molto lungo e fare un po' di ombra anche al mento me lo accorcerebbe ancora di più. Quando sfumate, per riuscire a sfumare bene, portate il pennello sia sicuramente un po' su, sulla parte dello zigomo, ma anche leggermente verso il basso, altrimenti vi rimarrà una linea netta molto scura che non è bellissima da vedere. Adesso fissiamo tutto con una cipria Prima di passare al trucco occhi definirò le mie povere sopracciglia Le spazzolo sempre un po' per capire la direzione e infine le definisco con una matita. Io tendo sempre a lasciare naturale il primissimo pezzettino delle sopracciglia. Innanzitutto perché è la parte più forte del sopracciglio che ho e quindi ha già un colore che è naturalmente marcato. E poi perché in ogni caso è da sempre un effetto leggermente più naturale lasciare la prima parte del sopracciglio non colorata. A questo punto passo un po' di correttore anche alla base degli occhi perché mi fa anche un po' da primer. La vado a sfumare un po' Con lo stesso color primo vado a sottolineare anche la palpebra inferiore. Completiamo un po' la parte dell'occhio con una matita nera all'interno. Applicate poi la stessa matita nera anche alla palpebra interna superiore dopo aver piegato però le ciglia. Mi raccomando a non fare mai questa operazione dopo aver applicato il mascara perché rischierete veramente di perdere le ciglia. La matita nera anche nella parte superiore. Prima di passare all'applicazione delle ciglia finte e poi a una leggerissima passata di mascara, io vado a definire un po' l'occhio con una linea nera sopra che non sia proprio particolarmente lunga. Serve soltanto per completare un po' la definizione dell'occhio. Se volete sfumate anche un po', io lo faccio con un cotton fioc. Passiamo il mascara. Alla palpebra superiore ne metto comunque poco soltanto per unire le mie ciglia bionde a quelle finte. Mentre alla palpebra inferiore ovviamente ne mettiamo molto di più. intensificandole con un bronzer, soprattutto agli zigomi. Poi alla fronte magari passate il pennello sporco di colore. E anche infine un po' di colore, un po' di fard. ed infine un po' di illuminante. Lo passate anche un po' al naso e un po' al labbro superiore e un po' al mento. Infine riprendete il pennello del fard e fate questo movimento giusto per unire un po' tutti e tre i prodotti per evitare stacchi. Per finire le labbra le disegnerò scure e le farò di un color vinaccia violaceo. Grazie. Per avere un effetto un po' sfumato io sto cercando di dare più intensità e quindi anche più volume restando sicuramente più scure e intense nella parte più interna delle labbra e più luminose in quella centrale. Grazie. Ok, questo è il risultato finale. io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo sicuramente al prossimo video